bene amici benvenuti e ben ritrovati in excel magico numero 102 oggi un video molto interessante anche se facciamo uno scherzetto come avete potuto leggere qui nel titolo ma interessante nel senso che andiamo a conoscere uno strumento che abbiamo molto trascurato cioè la correzione automatica per cui cercheremo di unire l'utile al direttevole cioè facciamo uno scherzetto ma allo stesso tempo andiamo a conoscere uno strumento questo scherzetto qua è molto carino è classico scherzetto da fare al nostro compagno di banco piuttosto che al nostro collega e ci faremo delle gran belle risate bene ragazzi a questo punto andiamo a vedere come si fa andiamo nel computer bene ragazzi come vi ho anticipato oggi impariamo excel divertendoci infatti andiamo a fare uno scherzetto per imparare questo strumento tanto trascurato che la correzione automatica ecco cogo anche l'occasione per parlarvi di quello che è il controllo ortografico cosa molto importante tanti di voi usano excel come editor per scrivere e tanti di voi non sanno che esiste questo strumento di correzione cosa che ad esempio in word è molto diffuso molto comune sappiate che quando c'è una parola errata lui me lo sottolinea in rosso per cui molto intuitivo in excel non è così per cui è uno strumento tutto da conoscere niente di difficile però è comunque da conoscere e da sapere io direi di iniziare subito la correzione automatica che come la parola sesso dice mi corregge automaticamente una parola ecco questo strumento qua ci servirà poi per fare lo scherzetto ecco se io scrivo ad esempio la parola acquistare eccoci qua senza la c appena primo invio potete notare che boom mi dà acquistare con la c per cui direi un ottimo strumento ecco questo qua sarebbe un ottimo strumento se non fosse per il fatto che lui mi riconosce gli errori solamente nelle parole che noi abbiamo inserito a priori nel senso che noi abbiamo una sorta di database dove inserire le parole sbagliata e automaticamente c'è la parola errata per cui vi lascio immaginare dovremmo inserire tutto il dizionare per cui questo qua è uno strumento un po da prendere con le pinze è uno strumento che vale molto soprattutto quando abbiamo delle parole che si ripetono molto spesso come ad esempio quando inseriamo in un database la parola report la parola nome la parola totale per cui quando usiamo le parole che utilizziamo molto spesso perché ad esempio se scrivo la parola casa in maniera errata in questo modo qua scrivo casa faccio invio vedete che non cade assolutamente niente e qui entra in soccorso il controllo ortografico come in questo caso qua vedete ho fatto un piccolo database con parole diciamo errate improbabile qui manca la p casa qui manca la a acquisto qui manca la c carta di credito qua manca la r eccetera eccetera ecco qui abbiamo delle parole singole abbiamo anche delle piccole frasi ok come si fa a fare questo semplicemente premendo il tasto f7 vedete mi viene fuori un wizard e lui si va a posizionare vedete qua la cella attiva ecco in questo wizard qua abbiamo i vari suggerimenti vedete qua acquisto acquisto perché è il passato di acquistare ecco qui da questo momento di nina scegliamo magari anche la lingua colore magari voi non vogliate l'italiano vogliate l'inglese o quant'altro per cui rimaniamo con l'italiano ecco quando noi siamo sicuri che la che la parola esatta è quella che è selezionata a questo punto possiamo premere cambio o ancora meglio doppio clic sulla parola esatta ecco quando faccio il doppio clic la cella attiva si posiziona nella diciamo cella successiva infatti facendo doppio clic vedete che qua si è posizionata nella cella successiva e qua abbiamo carte di credito e qua abbiamo tutti i suggerimenti ecco qua lui trova la parola credito che era sbagliata vedete e andiamo a correggere premiamo cambia ok semplicissimo vedere qua videocamera ecco qua vede l'errore ecco qua poi ci sono tanti suggerimenti possiamo scegliere quello che è più adatto al nostro caso ok ad esempio ecco questa cosa qua vale anche per delle frasi esempio lo schermo è acceso qua abbiamo diversi errori abbiamo lo schermo senza la c è senza la e accentato e acceso è corretto per cui ecco qua scegliamo doppio clic percorrere ecco qua schermo vedete doppio clic ecco cosa succede qua vedete che lui qua non trova altro errore perché qua ad esempio la e accentata non c'è ecco questo qua lui potrebbe essere anche una e di congiunzione per cui non sa che è un errore per cui potrebbe essere giusto comunque se vogliamo fare una ricontrollata ad esempio io direi di sì perché ad esempio visto che avevamo iniziato da questa cella qua dobbiamo ricominciare dall'alto perché lui questo strumento qua va dall'alto verso il basso per cui la parola improbabile non me l'ha presa così che non ha preso la parola casa qui e la parola casa qua per cui continuare io direi di sì ecco lui si posiziona la cella attiva qua nella nella cella c2 nella parola improbabile e mi dà il primo un solo suggerimento perché lui richiede che l'unica cosa che volevo fare per cui doppio clic ecco qua a casa direi che il suggerimento vedete che abbiamo anche cosa sa eccetera eccetera per cui direi casa ecco qua abbiamo l'altro suggerimento doppio clic ecco il controllo autografico è stato completato il documento è pronto io direi di ok e il gioco è fatto ecco a questo punto direi di fare lo scherzetto ovviamente utilizzando questo strumento qua ecco andiamo a vedere questo strumento qua come funziona ecco per fare questo andiamo qua in file andiamo in opzioni andiamo strumenti di correzione ecco qua opzioni di correzione ecco potete notare che ad esempio in questo visualizzato qua qua abbiamo la parola quella che è sbagliata che viene sostituita con la parola esatta cioè vedete che qua è diviso in due parti la parte sinistra e la parte destra ecco qua come dicevo prima vedete la parola acquistare senza la c deve essere sostituita con la parola acquistare con la c ok e qui viene fuori lo scherzetto e qui si sprigiona tutta la nostra fantasia e la vostra fantasia poi dipende ovviamente la vostra realtà lavorativa ad esempio se io la parola report eccoci qua la voglio sostituire con la parola mi piace ecco qua la pizza ecco qua vedete aggiungi ok ok ecco qui viene fuori tutta la vostra fantasia io scrivo non so come è andato il report punto di domanda ecco vedete che viene fuori come è andato il mi piace la pizza e questa qua è una cosa molto interessante ecco ad esempio supponiamo che avete il vostro compagno di banco piuttosto che il vostro collega che è interista e ogni qualvolta che magari scrive la parola nome viene fuori forza juve facciamo un esempio classico ecco ovviamente si sa che c'è questa grande lotta con la juve ma non solo con l'inter ma con tante altre squadre ecco qua strumenti di correzione andiamo in opzione di correzione quando io scrivo la parola nome che è una parola che possiamo usare abbastanza spesso mi viene fuori forza juve ok e qui c'è tanto tanto da ridere perché il vostro collega non riuscirà mai a capire cosa ha combinato ok per cui aggiungi ok ok per cui come facciamo lo scherzetto di adesso scriviamo non so il mio nome eccoci qua è il mio forza juve madonna mia ma cosa sarebbe successo ecco il vostro collega e poi ovviamente qui vi lascio alla vostra la vostra fantasia però sappiate che si può fare lo scherzetto per cui utilizziamo lo strumento correzione automatica per fare i nostri scherzetti ok provate a immaginare la vostra collega antipatica che praticamente dovete fare uno scherzetto e questo ci sta tutto ecco volevo aggiungere un'altra cosa molto importante questo tipo di modifica qua della correzione automatica ovviamente vale per tutte le cartelle di lavoro di excel e non solo su questo file infatti se io lo chiudo e lo salvo e apro semplicemente un altro file di excel potete notare se io scrivo ad esempio un nome eccoci qua viene fuori forza juve piuttosto che io scrivo report eccoci qua viene fuori mi piace la pizza per cui vale per tutti i file di excel ok non salviamo eccoci qua andiamo a riaprire il vecchio file anzi facciamo così ecco qua bene ragazzi spero di avervi insegnato divertendovi questo strumento qua che è molto interessante la correzione automatica ma anche il controllo ortografico è veramente molto importante siamo arrivati alla parte finale del video spero che questo video qua vi sia piaciuto se vi è piaciuto ovviamente mettete un mi piace se non vi è piaciuto mettete un dislike se non vi siete iscritti qua sotto c'è il tasto rosso iscriviti grazie ragazzi e alla prossima ciao